Ti sei guadagnato YouTube, vai! Marco, va che tecnica! Eh? Avete anche gli effetti spettacolari, più di così dovete farla a zero, eh! Guarda a me, se spari su dritto, mi fai la curva. Se spari su dritto, mi ammazza! Ma che cancello! Eppure... Bravo, bravo, vado in su! Ciao, Marchino!